Siete venuti a fare due passi a Porto Nuovo? Sì. Oggi è tempo bello, abbiamo preso la palla al balzo. Appena c'è il sole si viene a Porto Nuovo? Sì, perché è troppo bello. Un posto stupendo. Siete di Ancona? No, 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 vediamo dalla Romagna. Ah, è la prima volta che venite qua? Una volta, sì, molto bello. Seriani malabaglia di Porto Nuovo, pochi giorni dall'entrata ufficiale della primavera, complici le belle giornate e le temperature in aumento, in tanti cominciano già a ripopolare la riviera del Conero. a riattivarsi anche gli esercenti che si preparano a una nuova stagione. Avete aperto da ieri sulla scia delle belle giornate? Sì, sulla scia delle belle giornate, anche perché poi il periodo di apertura è sempre verso metà, fine marzo, quindi poi dalla settimana prossima apriranno anche tutti gli altri colleghi, quindi ci siamo. La Baia si comincia a ripopolare? Sì, la Baia è sempre popolata perché il sole fa sempre da traino per la gente e quindi è sempre bello, fa una passeggiata a Porto Nuovo anche nel periodo invernale e il sole aiuta molto, chiaramente. Stanno cominciando ad arrivare le persone, anche turisti? Sì, ma in fiatto fine settimana c'è molta gente da fuori, insomma, fuori, Emilia Romagna, Umbra che viene, quindi il tempo aiuta, insomma, anche questo. Ma c'è anche chi dalle belle giornate di sole si lascia ispirare, crea opere d'arte utilizzando i caratteristici sassi della Baia. Cosa sta facendo? Questa è una realizzazione di Stone Balance, praticamente pietre in equilibrio e più c'è un po' un discorso anche tipo giardino zen, quindi è una composizione di land art che praticamente si esegue nei riva al mare, nei fiumi, nei laghi. Sono tutte pietre che si mantengono in equilibrio da sole? L'unica colla è la colla di gravità, sì. Ma ha un qualche significato, da dove deriva? Ma diciamo, sono delle opere di impermanenza, quindi tipo i mandala tibetani. E il significato è che nel momento in cui si ricerca l'equilibrio la mente non pensa più a niente e si livra da tutti i pensieri, quindi c'è quel beneficio lì.